bentornati e buon giovedì a tutti quanti a poco più di 24 ore dalla partita con la juventus che tra le varie cose sarebbe anche una semifinale di coppa italia ecco che a milanello succede il finimondo tra poco ne parliamo e tenete conto che quello di oggi un video molto importante perché ci darà la misura del livello di maturità che il tifoso rosso nero è riuscito a raggiungere dopo aver passato gli ultimi anni a dire che prima dei dirigenti viene il milan che prima dei calciatori viene il milan vediamo che cosa ne pensate oggi io vi darò la mia opinione prima di fare questo però avrete sicuramente letto del problema di comunicazione che c'è stato tra il ministro dello sport e il ministro della salute perché speranza ha detto che pochi giorni fa in un'audizione in parlamento ha detto che la coppa italia si sarebbe potuta giocare tra il 12 e il 13 che stavano per dare il via all'autorizzazione quando in realtà era già tutto deciso e quindi un po' di confusione in ogni caso prendo spunto da questo episodio abbastanza simpatico e vagamente inquietante per raccomandarvi un libro questo libro si chiama io sono il potere confessioni di un capo di gabinetto è un libro che tra l'altro ho fatto anche una discreta fatica a trovare ed è un libro scritto da un anonimo personaggio molto influente che lavora nei palazzi del potere da tanti anni che ci racconta quelle che sono le dinamiche di chi comanda veramente in italia ad un certo punto si parla anche di speranza e soprattutto di spadafora il mio consiglio è di dare un'occhiata a questo testo di leggerlo prima di partire con alcune notizie puoi parlare della vicenda i bragazzidis vorrei fare un ringraziamento ringrazio marco ringrazio due francesco ringrazio alessio per la diretta di ieri sera è stato molto divertente una bella esperienza spero che sia piaciuta a tutti gli amici del canale che hanno partecipato e che voglio ringraziare pubblicamente nel caso in cui qualcuno di voi non abbia potuto vederla in diretta ieri sera qui sotto in descrizione lascio il link per poterla rivedere sarà disponibile fino alla giornata di domenica vediamo alle questioni di milan cominciamo con qualche notizia di mercato cominciamo con qualche dichiarazione perché danni olmo che sapete era stato un obiettivo del milan a gennaio con soprattutto l'interesse di boban ha dichiarato che effettivamente il milan era una delle squadre interessate a lui ma che lui ha scelto l'ipsia perché il miglior decisione della sua carriera è il progetto giovani ora è chiaro che per un ragazzo snobare il milan per scegliere il progetto l'ipsia potrebbe farci un po male però in questo momento non siamo evidentemente troppo appetibili per giocatori che vogliono fare un determinato percorso è vero che in germania la cosa è un po più semplice nel senso che nonostante l'ipsia sia una squadra che si sta strutturando per cercare di vincere il campionato le pressioni sono inferiori rispetto a quelle che possono esserci a san siro e in ogni caso poi in germania si fa un certo tipo di percorso per arrivare a un certo a certe squadre quindi la scelta di danni olmo è anche comprensibile chi lo sa che magari col progetto rangni che fra un paio di stagioni i giocatori non diranno la stessa cosa di noi cioè ho scelto il milan per il progetto e per una scelta di carriera mentre danni olmo non è mai arrivato sembra che luca jovic invece sia il prescelto lo vuole rangni che il serbo è l'attaccante preferito del nostro futuro allenatore dirigente il real madrid sarebbe disposto a cederlo come vi ho detto nei giorni scorsi anche la mia idea è questa cioè che real madrid stia facendo di tutto attraverso modi più o meno ortodossi per allontanare luca jovic dal real madrid un alleato del milan dice tutto sport potrebbe essere la gente ramadani che ramadani che ha buoni rapporti col club rossonero e con lo stesso rannini che è un nome che è già uscito diverse volte nelle ultime settimane come possibile intermediazione per la conclusione di questo affare è molto probabile che invece qua sì non arrivi anche ieri notizie dalla francia relative a un prolungamento col pari san germen è quindi evidente che così come altre situazioni così come altri assistiti di minoraio la ricorderete qualche giorno fa vi ho parlato di un centrocampista dell'ajax che adesso ha rinnovato che era stato offerto secondo i giornali e quindi secondo raigola al milan alla lazio altre squadre in realtà era semplicemente un pretesto per andare a strappare un contratto migliore la stessa cosa pare che stia facendo quasi anche se qui in questo caso a mio avviso ci sono delle situazioni legate a agenti e legate a commissioni e quindi la situazione un pochino più complicata mentre tutto scorre come come dice la canzone ecco che ieri sera mentre noi ci divertivamo in diretta a discutere di lui lui soboslai segnava tre gol contro lo sturm grazie io vi pregherei di andare a vedere i gol in descrizione lascerò il link per il video perché veramente sono tre gol di pregevolissima fattura e che tra l'altro ci danno la dimensione di quelle che sono le qualità di questo meraviglioso giocatore che io spero tanto di vedere al milan nella prossima stagione la gazzetta dello sport di oggi ci racconta che begovici andrà via ma questo un po lo sapevamo già ma e qui cominciamo a entrare un po nelle questioni dirigenziali non sarà il solo perché anche maldini se ne andrà maldini ieri non c'era non era presente a causa di impegni già presi in precedenza ma evidentemente questi sono tutti i segnali che vanno nella direzione di uno strappo ormai che non può essere ricucito con l'amministratore delegato e con la proprietà e quindi come io ho sempre pensato maldini lascerà il milan anche perché dopo le parole dette su ranghi che tutte le vicende che sapete l'incompatibilità tra i due è totale veniamo alla questione ibrahimovic gazidis prima la cronaca allora ieri gazidis è stato a milanello e ha parlato con la squadra con pioli con tutti quanti in merito alla riduzione dell'ingaggio sapete che il l'amministratore delegato ha trovato un accordo con i giocatori per il pagamento del 50 per cento della busta paga di aprile e non del 100 per cento relativa alla stagione in corso in quella circostanza alcuni giocatori avrebbero rimproverato all'amministratore delegato la sua assenza a milanello e tra questi quello più caldo nella sua manifestazione di insofferenza nei confronti del dirigente del più alto dirigente in grado del milan sembra essere stato zlatan ibrahimovic perché dico sembra perché io esprimerò adesso la mia opinione ma mi riferisco a ciò che raccontano i giornali vogliamo credere non vogliamo credere se prendiamo per buono prendete per buone le mie considerazioni se nei giorni prossimi nei prossimi giorni dovesse invece arrivare una smentita o in ogni caso dovessero un pochino rimodularsi le frasi uscite in queste in queste ore ecco che allora il discorso prenderebbe un'altra piega in ogni caso noi stiamo alla cronaca e stiamo a quello che ci hanno raccontato che cosa avrebbe detto zlatan ibrahimovic secondo la gazzetta dello sport non è più il mio milan non c'è progetto se io sono qui è solo per passione alcuni giocatori non sarebbero rimasti contenti dell'uscita di zlatan e quindi diciamo poi buonaventura begovi ci hanno parlato entrambi andranno via parlato anche romagnoli insomma la squadra ha chiesto a gazidis di farsi vedere più spesso lui ha risposto che lo farà e insomma c'è stata una grandissima confusione c'è stata una grandissima confusione che secondo me va un attimino discussa perché perché io sono se le cose sono andate così ripeto io sono assolutamente contrario al comportamento di zlatan ibrahimovic lo ritengo un comportamento poco serio poco professionale poco rispettoso di quella che è la figura dell'amministratore delegato e anche poco rispettoso di quelle che sono le gerarchie alle quali bisogna sottostare quando si è in un ambiente di lavoro e non solo sotto l'esercito mi spiego meglio se io avessi rivolto al mio amministratore delegato le parole che ibra pare abbia rivolto a gazidis nel giro di pochi minuti mi sarei trovato una lettera sulla scrivania se mi andava bene un richiamo disciplinare se mi andava male addirittura il licenziamento quindi non ci si può rivolgere a un proprio dirigente in questo modo con queste parole non lo si può fare manifestando un'arroganza che purtroppo troppo spesso ibrahimovic ha manifestato attraverso messaggi social attraverso altre uscite pubbliche io sono contento se lui si crede il più forte di tutti se lui si crede dio in terra però questo è un problema suo non deve essere un problema del milano e torno a quello che ho detto all'inizio del video dato che in tanti tifosi anche su questo canale hanno sbandierato giustamente il fatto che prima viene il milano e poi vengono i dirigenti e poi vengono i giocatori ecco che anche in questo caso deve venire prima il milano ibrahimovic ha mancato di rispetto a gazidis ha mancato di rispetto a tutti i tifosi e quindi io sono contento se le nostre strade si separano il punto di tolleranza è stato oltrepassato e spero che ibrahimovic possa andarsene a questo punto dico una cosa un po provocatoria ma spero possa andarsene anche prima della fine della stagione perché un comportamento di questo genere non è assolutamente a parte come dicevo consentito ma non è nemmeno educativo nei confronti dei calciatori proprio ieri sera nel corso della diretta si parlava della mancanza di figure di riferimento e di esempi al miran cosa che speravamo potessero dare boban e maldini che forse anche hanno dato in parte ma in ogni caso un comportamento del genere da parte del giocatore più importante più in vista e più forte della squadra è assolutamente anti educativo per un gruppo di ragazzi che già hanno difficoltà con la disciplina da quello che si regge ovviamente questo è il mio pensiero e io non voglio difendere gazidis perché a gazidis ho attribuito spesso le colpe adesso poi ovviamente l'operato dell'amministratore delegato lo vedremo in fase di bilancio e lo vedremo in fase di rapporto con la uefa in ogni caso per quanto si possa detestare gazidis io credo che il tifoso milanista consapevole della situazione non possa accettare un comportamento del genere da parte di zlatan ibrahimovic nei confronti dell'amministratore delegato il giudizio su gazidis è negativo per quel che riguarda la scelta dei dirigenti per quel che riguarda una certa confusione che ha fatto e aver affidato anche le chiavi del milan a persone che non si sono rivelate poi all'altezza per guidare e costruire una squadra che possa che potesse andare verso gli obiettivi prefissati però è l'amministratore delegato e siccome il progetto che sta costruendo è volto proprio a disinteressarsi sempre di più della parte sportiva e occuparsi delle parti di bilancio della costruzione dello stadio di tutte le parti sponsorizzazioni eccetera finalmente spero spero potremo avere una squadra organizzata una società organizzata con ruoli ben definiti dove l'amministratore delegato fa l'amministratore delegato e non necessariamente deve presentarsi ogni settimana a milanello perché l'amministratore delegato della mia società io non lo vedo ogni settimana non c'è questo bisogno non è una figura che deve essere presente sul campo altrimenti continuiamo a pensare alle squadre di calcio come delle squadre padronali dove il presidente la figura di riferimento si fa vedere ogni settimana al campo per motivare la squadra non è più così questa è la mia opinione nel frattempo pioli secondo la gazzetta dello sport ci prova ma sempre l'ombra di ragniche che ormai è diventata praticamente la sua scimmietta sulla sulla spalla la gazzetta dello sport dice un posto in europa pioli solo così potrebbe avere chance di rimanere chance di rimanere che non ci sono sia perché il minan quasi sicuramente non raggiungerà la champions league forse nemmeno l'europa league sia perché il futuro è già scritto per quello che riguarda le scelte in panchina e le scelte in dirigenza a proposito di panchina si sottolinea su alcuni quotidiani oggi come il minan sia in difficoltà dal punto di vista di soluzioni in panchina tant'è che a me ha fatto sorridere negli ultimi giorni l'insistenza con la quale si è annunciata la possibilità di avere cinque cambi a partita cosa che per noi non è un grossissimo vantaggio in vista della gara di domani sera ultima cosa senza ibra il rigorista tornerà ad essere frank che sì ieri la goccia che ha fatto trabloccare il vaso del rapporto tra ibra e milan ovviamente capiremo anche dai risvolti delle prossime settimane se quello che c'è stato ieri è avvenuto davvero così come riportano i giornali oppure se la cosa è stata un pochino romanzata nel frattempo io vi saluto vi auguro un buon giovedì vi attendo con ansia e con gioia i vostri commenti voglio sapere come la pensate vi ricordo che domani non ci sarà il solito video di quest'ora perché ci sarà una diretta a partire dalle ore 13 più o meno una mezz'oretta insieme per discutere in vista della partita domani sera video pre partita breve commento nell'intervallo instagram e telegram questi due video e poi il classico post partita qui su youtube allora mi raccomando mettete un like al video iscrivetevi al canale qui sotto trovate il link della live di ieri se ve la siete persa e il link ai gol di Soboslai ho detto tutto passate un buon giovedì e alla prossima